Per chi mi segue da un po' di tempo, da un po' di vlog, avrà notato che utilizzo due microfoni per le riprese Uno per le riprese outdoor e l'altro per le riprese in studio Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, sono Mattia Oggi andiamo a parlare di questi due prodotti che trovate qua Tra l'altro uno è stato acquistato durante il Black Friday, periodo tra Black Friday e Cyber Monday E non sono riuscito finora a fare un vlog dedicato al confronto tra i due microfoni E adesso è arrivato il momento di farlo Vi tolgo le scatole dalle palle Allora, due prodotti, VideoMic e VideoMicro Oltre alla scatola che è sensibilmente più piccola quella del VideoMicro, come si può notare Anche la forma e il design di questi articoli è completamente differente Intanto il primo, il VideoMic, che è quello che ho acquistato per primo E tra l'altro la video recensione la trovate qui in alto Mentre di questo articolo non c'è ancora nulla sul canale Quindi questo sarà il primo vlog dedicato a questo VideoMicro Che è veramente un microfono sensazionale Parliamo prima di tutto di costi e poi vediamo insieme le potenzialità di questi due articoli Il primo, il VideoMic, costa intorno ai 120-130€ Mentre l'altro si trova anche a 50€ Quindi meno della metà La portabilità di uno e dell'altro va a favore sicuramente del VideoMicro Infatti come si può notare il design, la dimensione è molto molto piccola, compatta Il microfono è a canna di fucile, ma diciamo fucile piccolino, a canna di pistolina si potrebbe dire Mentre l'altro è un vero e proprio microfono a canna di fucile È anche dotato di alimentazione, infatti ha una batteria che garantisce circa 70-100 ore di utilizzo Rode inoltre lo garantisce per ben 10 anni Mentre il VideoMicro per 3 Per quanto riguarda gli accessori, il VideoMicro viene fornito già con DeadCut Che sarebbe quel peluche gatto morto che si mette sopra il microfono E che tra l'altro regala sia un supporto per l'antivento E anche un suono ovattato, molto più da studio Mentre l'altro, il microfono a canna di fucile è vero e proprio Un bel fucilozzo, bello lungo come microfono È molto scomodo anche da portare in giro Soprattutto per riprese tipo vlog O magari riprese selfie Dove bisogna tenere la macchina fotografica anche particolarmente vicina Questo microfono viene fornito con un supporto in gomma piuma Che serve sì per isolare dal vento O quantomeno ridurre il rumore Ma non funziona molto Rispetto invece al supporto DeadCut che si può acquistare a parte E che costa ben 40 euro 30-40 euro Per il microfono dotato di batteria è possibile anche regolare la sensibilità a decibel Da più 20 a meno 20 Quindi è ideale anche per riprese molto rumorose Per esempio in stadi o in concerti O comunque dove c'è una presenza di suono molto molto forte Questa è una buona soluzione di microfono economica per questo tipo di eventi Quando si accende il microfono è anche possibile selezionare il filtro a meno 80 Hz Per filtrare queste frequenze E adesso arriviamo alla domanda vera e propria che vi starete facendo E mi sono fatta anch'io quando ho acquistato questo video micro Ed è Ma qual è la reale differenza tra uno e l'altro? Vediamolo insieme in questo test dove ho registrato 30 secondi della stessa canzone Sullo stesso supporto audio E con anche lo stesso piedistallo Senza cambiare alcuna configurazione aggiunta nella camera Quindi ante dei mobili aperto e chiuso Ho lasciato tutto invariato In modo che le condizioni ambientali per entrambi i microfoni fossero identiche E adesso scopriamo quale dei due microfoni suona meglio Partiamo con il primo Il video mic Grazie a tutti E ora tocca al secondo Il video micro E ora tocca al secondo Che ne pensate? Commentatemi qui sotto e in alto invece trovate il sondaggio con quale dei due microfoni suona meglio secondo voi. Parere personale, questa è una mia percezione, il suono mi risulta notevolmente migliore sul video mic. Questo perché rilevo una maggiore pienezza di suono, se avete ascoltato il test con le cuffie sentirete molto di più i bassi e anche un suono molto più ricco, molto più ovattato e pieno, tra virgolette. Mentre l'altro è un microfono ideale per esempio per il parlato o per i vlog outdoor dove c'è comunque da filtrare tutta una serie di rumori in sottofondo. Questo microfono infatti praticamente isola una cifra ai bassi e tiene molto bene gli alti, quasi anche forse troppo sono squillanti. Infatti la voce si sente molto molto bene. Sono molto curioso di leggere voi cosa ne pensate e quale tra i due preferite. Abbiamo parlato del prezzo, della forma, del design, delle potenzialità di registrazione, delle configurazioni che su uno sono disponibili e sull'altro sono di default. L'unica cosa che adesso dobbiamo dire, e purtroppo la dobbiamo dire, è una lancia da scagliare a favore del video micro il peso. Questo microfono pesa 50 grammi mentre l'altro 200. Vi assicuro che montare il video micro sulla Sony RX10 è quasi come non avvertirlo, non averlo. È comodissimo da portare in giro, è anche molto flessibile il supporto, nonostante sia un microfono entry level molto economico. Il video mic ha le ammortizzazioni Lair di Rykot e sono molto molto più efficaci e molto molto più ammortizzate, se così si può dire, rispetto al video micro. Infatti come si può vedere l'ammortizzazione è notevolmente maggiore e in fase di camminata o in fase di urto questo supporto reagisce veramente bene. L'isolamento dipende tanto dall'urto che si dà alla macchina o al supporto sul quale è montato il microfono. Nel vlog dedicato a questi due prodotti Rode non poteva mancare l'adattatore che consente di registrare e quindi di utilizzare anche i microfoni Rode sui dispositivi mobile tramite il jack delle cuffie. Infatti con questo cavettino è possibile collegare i microfoni Rode a un computer Mac, a un iPad, a un iPhone, a un qualsiasi altro cellulare che abbia la presa jack e che utilizzi il cavetto classico delle cuffie. Quindi quelle con microfono e con poi riproduzione stereo. Con un'apposita cover è possibile addirittura montare il video micro sul proprio iPhone e quindi avere questo microfono pelosino che esce dal telefono e che regala una qualità di suono, di audio, al video che stiamo realizzando sicuramente migliore rispetto al microfono integrato nello stesso iPhone. I link a questi tre articoli originali Rode li trovate in descrizione, questo video non è sponsorizzato da Rode, l'ho realizzato per il piacere di condividere con voi le mie esperienze con questi tre prodotti ottimi. Grazie a tutti per la visione, mi raccomando iscrivetevi per non perdere le novità su questo canale YouTube e visto che siete rimasti fino qua commentatemi quali dei due microfoni preferite, mi raccomando. Ciao a tutti! Ciao a tutti!